Fanno parte di una categoria sospesa nel tempo. Sono gli esodati, e cioè quelli che sono giunti all'età pensionabile e poi sono stati congedati dalle aziende. Più tardi si sono trovati nel bel mezzo della riforma Fornero, scoprendo che per altri 4 anni non avrebbero potuto ricevere pensione né ottenere un nuovo lavoro. A Pescara sono 71, nessuno si è occupato di trovare una soluzione fino ad oggi. Ad intervenire ora c'è una proposta di Teodoro e Pignoli, che mediante delibera propongono distanziare 100.000 euro per garantire uno stipendio di 1.000 euro al mese per ognuno in attesa del raggiungimento della pensione. Abbiamo ritenuto che sia importante tutelare una fascia di persone che sotto l'aspetto contributivo sono arrivati all'età pensionabile, ma sotto l'aspetto dell'età medesima loro non hanno diritto. Con il governo Monti e con i provvedimenti della Fornero i tempi si sono allungati notevolmente, per una parte di essi, perché poi il governo aveva e ha predisposto una copertura per un'altra parte. E allora per questi soggetti che oggi si ritrovano senza stipendio, senza pensione e senza ammortizzatori sociali a loro vantaggio, noi chiediamo, così come è stata anche fatta dalla regione Lombardia, la possibilità di dare 1.000 euro mensili a queste persone fino ad arrivare all'età della pensione. Il fondo stanziato, specificano i due consiglieri, non sarebbe a fondo perduto, bensì verrebbe risarcito in 36 mensilità proprio dal momento dell'ottenimento della pensione. Nel momento in cui queste persone otterranno e prenderanno la pensione, allora nel regolamento è previsto con un massimo di 36 rate e la somma percepita verrà restituita all'amministrazione comunale, per cui l'amministrazione comunale non ha nessun costo se non soltanto sotto un aspetto di anticipazione di somme.